Ciao amici, ecco a voi il riassunto del mio 2017, non so se ho tanti video salvati, però ne ho uno di me che ho fatto la gastroscopia sotto anestesia e sono tutto rincoglionito Raga ma DJ Khaled mi guarda, guardate, mi sta fissando raga, cosa cazzo vuoi DJ Khaled? So we are about to eat the red carpet of the Golden Globes in Star Party and this is my look Ok, allora dobbiamo ripassare, tu allora in questo momento sei tutta fatta e l'unica cosa a cui pensi è fare soldi, cioè tu vuoi solo fare soldi, tu stai pensando che devi andare da, devi comprarti il c***o Ok, buongiorno A bezream e raga stiamo dal commercialista valigia piena di fatture sono un 2000 tredicesimo piano bufu tredicesimo piano ha bisogno dell'angolazione giusta stavo facendo un lavoro e Siamo pronti 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 Paris in casa Siamo pronti Siamo pronti Siamo pronti Siamo pronti Siamo pronti Leone Siamo pronti Siamo pronti